Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi ESC per droni FPV della DAL RSI. Si tratta dei DAL RSI NGINE, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Questi ESC arrivano in questo box di plastica che li protegge dagli urti durante la spedizione. All'interno della confezione troviamo gli ESC, 4 gommi di antivibrazione, un condensatore, i cavi per il collegamento al flight controller, il manuale di istruzioni ed un set di viti e standoff. Questi ESC sono di tipo 4 in 1, ovvero i 4 ESC sono riuniti in un'unica scheda da montare all'interno del frame. Come notiamo abbiamo 4 gommini antivibrazione. Negli ESC non sono fondamentali ma possono fare in modo che le vibrazioni non vengono trasferite al flight controller. Nella parte superiore abbiamo questo dissipatore in metallo che aiuta a mantenere bassa la temperatura dei MOSFET ed offre una protezione alla scheda. Questo connettore serve per collegare il flight controller dall'RC F405 in modo da avere una build estremamente compatta. Le dimensioni della scheda sono 36 x 36 mm, i fori 30,5 x 30,5 mm, abbiamo quindi delle dimensioni standard, a differenza di altri ESC che solitamente ad alti ampere hanno dimensioni più grandi. Il peso è di 15,7 grammi. Questi ESC sono da 40A e tollerano un picco di 50A per un massimo di 10 secondi. Le batterie supportate sono da 3 a 5 celle. I DALRC Engine sono degli ESC molto completi, infatti hanno integrato il sensore di corrente ed un BEC a 5V da 3A. Il BEC a 5V è utile nel caso vogliamo abbinare questi ESC a un flight controller che non ha la PDB integrata. Questi ESC hanno il firmware Bieleli32, quindi sono compatibili col protocollo DSHOT 1200. Se vogliamo possiamo usare le versioni precedenti come DSHOT 600, 300 o 150. In alternativa possiamo usare protocolli analogici come OneShot, Multishot o PWM. Tutte le configurazioni e l'aggiornamento firmware possono essere eseguite tramite Betaflight passthrough. Se avete bisogno di aggiornare trovate la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Il condensatore fornito è da 25V 470uF. Questo serve per ridurre il rumore aiutando a mantenere il video pulito e prevenendo i picchi di tensione. In conclusione possiamo dire che i DALRC Engine sono tra gli ESC più performanti disponibili al momento. Grazie al firmware Bieleli32 possiamo abilitare il protocollo DSHOT 1200 che ci garantisce tempi di risposta estremamente veloci. Poter gestire una corrente continua di 40A rende questi ESC utilizzabili praticamente con qualsiasi motore per miniquad racing presente sul mercato. Il soft mount e le dimensioni contenute sono delle aggiunte molto interessanti. Le batterie supportate sono da 3 a 5 celle, quindi questi ESC non sono adatti a chi vuole creare delle build a 6S. Segnalo anche l'assenza della telemetria degli ESC, caratteristica comunque non strettamente necessaria. Questa era la mia recensione dei DALRC Engine. Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.